A volte nella vita ci sono delle sfide che dovrai affrontare da solo. Dovrai trovare l'idea originale. Pensarai subito alla soluzione più facile, ma non sempre sarà quella giusta. Dovrai essere veloce nel prendere decisioni importanti. L'attesa potrà essere snervante, è vero. Ma passo dopo passo, troverai la strada, quella giusta. Lotterai contro tutto e tutti. Lotterai contro il tempo. Non importa quanto lunga sia la salita. L'importante è cercare e trovarsi, sempre. Forse cadrai, ma ti rialzerai più forte di prima. Non smettere mai di credere nei tuoi sogni. Una luce ti attraverserà. Troverai la chiave del successo. Ti lascerai andare, ti sentirai libero, ti sembrerà di toccare il cielo con un dito. Questa è fibra. Questo è fastweb. Questo è fastweb. Ander da qua. Forse cadrai. Questa è la sua percezione. Questa è la sua descrizione. Ti lascerai.